Solaria Più è un progetto immobiliare con caratteristiche originali in classe A+. Innanzitutto è un doppio progetto immobiliare, articolato in due complessi. Uno in via Cola de Rienzo 37, l'altro in via dei Sormani 12. La massima classe di efficienza energetica non è il solo tratto qualificante del progetto, anche la scelta dell'area urbana, quella intorno a vie solari, è frutto di una linea progettuale caratteristica del nostro gruppo. Una linea che non si esaurisce nel disegno delle abitazioni, ma si estende a considerare gli spazi di vita circostanti come le vie, i quartieri e gli ambiti urbani più prossimi. Abitare, secondo la nostra filosofia, non vuol dire semplicemente vivere in casa quanto piuttosto vivere la casa e con consumi zero, incluso il contesto in cui si inserisce e che è frutto anch'esso, nel nostro caso, di una precisa scelta di progettazione. Per la sua identità residenziale, il quartiere Solari è sembrato una collocazione perfetta per il progetto Solaria Più. Inoltre, in ragione della loro prossimità, il Parco Solari e la vivace zona Tortuna costituiscono due estensioni abitative sicuramente qualificanti, che conferiscono ulteriore valore a due complessi già prestigiosi per lo standard delle proprie finiture. Con prossima realizzazione della metropolitana M4, La residenza di Via dei Sormani 12 è un unico complesso con una posizione fronte strada di 6 piani e la posizione retro di 9 piani. La costruzione è realizzata con rivestimenti esterni bicromatici, in una sfumatura di colori beige e marrone chiaro, e arricchiti dalle trasparenze in vetro dei balconi. La parte dell'edificio fronte strada è prospicente Via dei Sormani e si sviluppa principalmente lungo la strada, mentre l'altra parte ha una collocazione più interna e, con i suoi 9 piani di altezza, regala una vista privilegiata sull'intero quartiere Solari, sul suo parco e sull'orizzonte di Milano. In ragione della propria originale architettura, il complesso si distingue come un elemento di avanguardia estetica e tecnica, esaltando la qualità abitativa degli appartamenti tutti dotati delle più avanzate soluzioni tecniche con il più basso impatto ambientale, tra queste. Copertura integrale con pannelli fotovoltaici per l'alimentazione autonoma e a impatto zero degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. I migliori impianti e sistemi di domotica e climatizzazione. La facciata ventilata, per una naturale circolazione dell'aria e per la protezione da umidità invernale e riscaldamento estivo. Un efficiente impianto di ventilazione meccanica il tutto previsto da capitolato e per un comfort abitativo di ultima generazione.